Grazie a tutti. Stavamo dicendo che abbiamo iniziato l'esamina del quarto dogma mariano dell'assunzione, un dogma bellissimo e come tutti quanti i dogmi mariani avente varie implicazioni. Abbiamo iniziato la volta scorsa la lettura che cercheremo di fare in maniera esaustiva, proprio non paragrafo per paragrafo ma almeno le parti principali, seguendo un pochino l'itinerario che ha portato sulla santità Papa Pio XII alla formulazione del dogma. La volta scorsa abbiamo visto i paragrafi introduttori, quindi l'unanimità, il consenso sia dei Vescovi che del popolo di Dio alla definizione di questo dogma, le richieste pervenute alla Santa Sede. Dopo questi paragrafi c'è un passaggio in cui il Papa ricorda come sia la festa della dormizione che dell'assunzione di Maria Santissima avevano varie forme di celebrazione liturgica sia in Oriente che in Occidente. Quindi è un paragrafo un po' didattico, quindi basta renderne conto. E poi queste festività liturgiche già presenti nella Chiesa d'Oriente e d'Occidente furono poi gradualmente approvate, apprezzate e solennizzate da vari successori di Pietro. Si arriva poi a un paragrafo importante su cui dobbiamo un attimo fermarci che è la voce di alcuni Santi Padri e poi ancora più importante l'insegnamento dei teologi per arrivare poi alla formulazione dogmatica. Oggi è bene un po' approfondire questi aspetti in ascolto della bolla. Allora, anzitutto, la voce dei Santi Padri. Leggo, cito, così San Giovanni Damasceno che si distingue tra tutti come testesimio di questa tradizione, quindi l'incorruzione della Beata Vergine Maria, ricordiamo, e il suo trionfo e glorificazione dopo la morte a somiglianza dal suo nigenito Gesù, considerando l'assunzione dell'alma madre di Dio nella luce degli altri i suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza Era necessario che colei che nel parto aveva conservato in lesa la sua verginità, conservasse anche senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Era necessario che colei che aveva portato nel suo seno il creatore fatto bambino abitasse nei tabernacoli divini. Era necessario che la sposa del padre abitasse nei talami celesti. Era necessario che colei che aveva visto il suo figlio sulla croce, ricevendo nel cuore quella spada di dolore dalla quale era stata immune nel darlo alla luce, lo contemplasse sedente alla destra del padre. Era necessario che la madre di Dio possedesse ciò che appartiene al figlio e da tutte le creature fosse onorata come madre e ancella di Dio. Queste espressioni di San Giovanni Damasceno corrispondono fedelmente a quelle di altri affermanti la stessa dottrina. Infatti parole non meno chiare e precise si trovano nei discorsi che in occasione della festa tennero altri padri, anteriori o coevi. Così per citare altri esempi, San Germano di Costantinopoli trovava con sentanea l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine Madre di Dio non solo alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo stesso corpo virginale. Tu, come scritto, apparisci in bellezza e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto domicilio di Dio. Cosicché anche per questo sia poi immune dalla risoluzione in polvere, trasformato bensì in quanto umano nell'eccellza vita della incorruttibilità, ma lo stesso vivo, gloriosissimo, incolume e dotato della pienezza della vita. E un altro antico scrittore dice Come gloriosissima Madre di Cristo, nostro Salvatore Dio, donatore della vita e dell'immortalità, è da Lui edificata, rivestita di corpo in un'eterna incorruttibilità con Lui, che la risuscitò dal sepolcro e l'assunse a sé, in modo conosciuto a Lui solo. Con l'estendersi e l'affermarsi della festa liturgica, pastori della Chiesa e i sacri oratori, in numero sempre maggiore, si fecero un dovere di precisare apertamente e con chiarezza il mistero e l'oggetto della festa e la sua strettissima connessione con le altre verità rivelate. Tema che riprenderemo. Vorrei soltanto sottolineare alcuni aspetti, cioè la connessione, perché poi vedremo la questione al termine della trattazione, quando avremo ben identificato. questione che non è risolta espressamente dall'Omunificentissimus Deus e il Papa ha voluto volontariamente non risolverla. Ci sono due fatti sicuri. Uno, che la Madonna è stata assunta in cielo e due, che il suo corpo non si è corrotto. Attenzione, questo è importantissimo questo qui. Il suo corpo non si è corrotto, è rimasto integro, non ha conosciuto la corruzione. Che poi sia morta o non sia morta e in che senso eventualmente sia morta, se possa chiamarsi vera morte oppure no, quello che è successo al termine della sua vita, è questione tuttora aperta. Io chiaramente a suo tempo dirò quello che penso, perché c'è assoluta libertà. Il dogma riguarda l'assunzione corporea di Maria e, attenzione, l'incorruzione del suo corpo, che qui, attenzione, San Giovanni Damasceno, un grandissimo devoto della Madonna, un padre tardivo, con lui si chiude, anzi, l'età patristica, è un padre molto molto tardivo, ottavo secolo dopo Cristo, quindi molto molto avanti, ma un innamorato della Madonna. E a cosa lega l'assunzione alla verginità? Cioè la verginità che è l'incorruzione tangibile del corpo femminile in particolare e che è stata sempre conservata. Nel concepimento, nel parto, ormai questo lo sappiamo, e dopo il parto, come dire, era il segno di questa custodia di quel corpo dal veleno della corruzione. Capite che cosa ci fa? Questo ci fa capire una cosa molto importante. Ricordo, vedete quanto a suo tempo dissi, sull'ipotesi teologica del peccato originale. Cioè il principio della corruzione del nostro corpo, se uno, come dire, riflette, rielabora quello che dice San Giovanni da Masceno, è connesso con la non-verginità di esso. D'accordo? La non-verginità è in senso ampio, perché non è che uno che rimane vergine durante la vita non muore, no? Magari, insomma. Ecco, però lei è stata concepita immacolata e ha custodito l'immacolatezza tramite verginità interiore, ma anche esteriore. Cioè non ha conosciuto uomo. Noi a questo particolare, e come sono state le relazioni tra Maria e Giuseppe, dobbiamo pensarci. Dobbiamo pensarci. Perché se la perfezione assoluta, supponiamo, fosse stato che Gesù nascesse umanamente da Giuseppe e Maria, così sarebbe stato. Qui San Giovanni da Masceno collega l'assunzione, ed è documento, insomma, citato da Nammunificentissimus Deus, alla virginità. Poi aggiunge altre cose. Con lei che aveva portato nel suo senno il creatore fatto bambino, doveva abitare nei tabernacoli divini. La sposa del padre doveva abitare in età Nammici Celesti. Quindi guardate anche la... notiamo anche la... la pluriformità, cioè il rapporto che Maria aveva con l'Altissimo. Cioè tutti quanti la... ce la immaginiamo come madre? solo come madre? È stata anzitutto la grande figlia, la grande ancella dell'Altissimo, ma è stata la sposa di Dio. Quindi, cioè, tutte le forme possibili e immaginabili e sante dell'amore, lei le ha vissute con l'Altissimo. E insomma, è a mio avviso molto da approfondire, perché è molto edificante, insomma, anche per noi. La Madonna è, come dire, la realizzazione perfetta di tutta quella teologia già vettero-testamentaria, quindi della chiamata del popolo di Dio ad intessere con il suo creatore un rapporto modulato sui canoni della sponsalità, non soltanto nel profeta Osea, ti farò mia sposa per sempre, eccetera, eccetera, no? Ma questo è un tema affrontato anche dal profeta Isaia, da vari passi dell'Antico Testamento. Ci sono tutte le parabole evangeliche di Gesù che parlano del Regno di Dio come, in termini nuziani, come inviti a nozze, come festa di nozze, la parabola delle virgine, la parabola degli invitati che non accettano, insomma, no? E eccetera. Il primo miracolo di Gesù fatto alla nozze di Cana, cioè anche questo è un mistero che va ben oltre, insomma, una interpretazione immediata, certamente, importante, no? Ma il contesto, capite, cioè che Gesù cambia l'acqua in vino in un contesto nuziale, non è solo, c'è anche questo, ovviamente, la santificazione delle umane nozze che sono state comunque redente da Gesù e santificate, per questo che esiste un sacramento, un sacramento che è importantissimo, ecco, ma un sacramento che è importantissimo e che però si fa anche capire come il mistero dell'amore sponsale tra un uomo e una donna ha bisogno di essere santificato. Cioè, io provocatoriamente faccio sempre una domanda, d'accordo? E io la faccio questa domanda. Un cardinale recentemente ha dato una buona via di risposta. Dico, va bene, dico sempre alle persone. Supponiamo che ci sta una coppia, d'accordo? Una coppia. Fermamente, giura, risolutamente, giura su Dio, d'accordo? Facciamo così, giura su Dio di rimanere fedele l'uno all'altro fino alla morte e quindi si impegna con giuramento a custodire l'indissolubilità del matrimonio. Non parlo del sacramento del matrimonio. Poi, si unisce illimitatamente aperta la vita, non userà nessun contraccettivo, non userà mai niente, se prendono tutti quanti figli che Dio vuole. D'accordo? E promette e mantiene la promessa. Uniti fino alla fine. Cosa manca a una coppia di questo genere? Si sposano liberamente, d'accordo? Anzi, hanno fatto pure un'altra cosa che oggi non fa più quasi nessuno. Non hanno conosciuto nessun altro uomo e nessun'altra donna che l'uno e l'altro, capito? Mi ha già un uomo che non ha una coppia. Un uomo e una donna. Non conoscono mai nessuno, non stanno mai con nessuno, quindi non si uniscono con nessun altro che non tra di loro. Giurano su Dio che rimarranno sempre uniti e che non si tradiranno e che non divorzieranno. D'accordo? Si prendono tutti, fanno venti figli, venticinque, come Santa Caterina da Sena e non contraggono il sacramento del matrimonio. Vediamo un po'. Come la mettiamo? Io lascio questa domanda, non voglio rispondere oggi. E perché allora è necessario il sacramento del matrimonio? Attenzione che anche quando Gesù parla dell'indissolubilità il sacramento del matrimonio rafforza l'indissolubilità. Ma l'indissolubilità del matrimonio Gesù, il mangelo di Matteo, non dice guardate sì, Mosè vi ha consentito, ha tollerato di budiare la moglie per evitare mali peggiori. Però io adesso devo istituire un sacramento quindi in forza di quel sacramento il matrimonio tornerà ad essere indissolubile. Non ha detto così. Ha rimandato da principio non fu così. Quindi l'indissolubilità era come dire intrinsecamente contenuta anche nella relazione sponsale originaria che non sappiamo come fosse. Domanda il matrimonio tra Giuseppe e Maria ma qui sto proprio oggi facendo un po' di provocazione. Era indissolubile. era santo? Era santo. Ma che tipo di matrimonio hanno contratto Giuseppe e Maria per dire no? Matrimonio secondo la religione ebraica. Certo noi sappiamo da San Tommaso da Quino che fino a quando Gesù non ha istituito i sacramenti della nuova alleanza e la grazia circolava attraverso le ombre e le figure dei sacramenti dell'antica alleanza quindi la circoncisione la vasca ebraica e tutto quanto il resto no? Però capite Maria e Giuseppe non sono mai stati marito e moglie sono sempre stati sposo e sposo capite? Cioè qui dobbiamo capire un principio fondamentalissimo che è molto importante e che oggi è importante più che mai perché guardate quello che ha detto un cardinale un pochino di tempo fa è che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che questo risolve tutta una serie di problemi avete visto a volte alcune frange dicono la chiesa ce l'ha con gli omosessuali ma per carità di Dio o condanna gli atti ma non per carità di Dio d'accordo? Per carità cioè non ce l'abbiamo con nessuno la chiesa insegna questa cosa perché questo è il punto che non esiste possibilità di linguaggio sessuale usiamo questo termine se non all'interno di un sacramento che è il matrimonio e il matrimonio si contrae tra un uomo e una donna punto attenzione che anche all'interno di questo sacramento il linguaggio sessuale come la chiesa spiega con terminologia delicata ma che deve essere compresa tipo sacrosanto un concidium quando i coniugi si uniscono con atti come dice umani e onesti attenzione l'atto coniugale viene definito umano e onesto questo è un pochino lo stile condivisibile secondo me perché chiama in causa cioè una coppia che legge questa cosa si deve chiedere che significa un atto coniugale umano e onesto perché da questa specificazione perché non tutti gli atti sessuali sono umani e onesti anche dentro il matrimonio capite noi questa cosa qui oggi assolutamente dobbiamo 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 cioè il principio fondamentale è che ci deve essere un sacramento per come dire rendere lecita l'unione tra un uomo e una donna l'unione in senso stretto quella stessa unione da cui nascono i figli capite che altrimenti lecita non sarebbe anche se nascono i figli cioè questo buono può essere d'accordo può non essere d'accordo può piacere può non piacere può capirlo può non capirlo ma questo è quanto c'è stato rivelato cioè tutte quante le problematiche cioè l'accompagnamento che si fa ad un fratello o ad una sorella omosessuale ma guardate che è lo stesso identico che si fa a un singolo o una singola di 40 o di 50 anni che è eterosessuale perché se questa non si sposa deve essere aiutata a vivere la castità punto cioè quindi questo non è semplicemente una legge d'accordo questa è una diverazione qui ci vuole tutto quanto un cammino un itinerario una comprensione antropologica di quello che è il progetto di Dio la creazione eccetera eccetera però questo è il punto perché ho fatto questo discorso perché qui San Giovanni Damasceno collega l'assunzione alla verginità verginità che la Madonna ha custodito in forza e dopo l'immacolata concezione quindi se la Madonna ha mostrato in sé e ha condotto in sé quella vita perfetta che tutti avremmo dovuto condurre è chiaro che quando a suo tempo parlai di quell'ipotesi teologica circa il peccato originale che non voglio non voglio fare una cosa ma quella cosa che rimane comunque un'ipotesi però per esempio fa capire molto bene perché il matrimonio è un sacramento e perché senza sacramento del matrimonio quell'esempio che ho fatto prima io non ho risposto a una domanda retorica un uomo e una donna stanno insieme solo tra loro due quindi non è che per tutta la vita prendendosi tutti i figli che Dio gli manda gli manca ancora qualcosa anche se chiaramente sono tanto di cappello nei confronti specialmente di tante gobbie cristiane che si sono legate all'alzacramento del matrimonio e magari poi mandano a aperare il matrimonio i figli non li vogliono eccetera eccetera d'accordo perché a volte chi ha una coscienza retta e magari non ha la nostra fede purtroppo fa scuola a quelli che hanno la fede ma come diceva San Paolo come diceva San Giacomo due domeniche fa non hanno le opere bene chiudiamo questa parentesi però io ogni tanto faccio queste aperture di parentesi perché noi comprendiamo una cosa bellissima io sono stato ordinato alla scuola del cardinal Petrocchi ne parlo spesso perché adesso è cardinale di Santa Romana Chiesa meritatissimamente e lui ci diceva sempre lui è non soltanto un grande psicologo ma anche un filosofo un teologo ci diceva sempre cercate di comprendere a noi giovani preti la totalità della rivelazione le interconnessioni non esiste nella fede cattolica una verità di fede che sta lì isolata autoreferenziale la Madonna è stata assunta e va bene la Madonna è stata anche assunta sono affari suoi no no non sono affari suoi sono affari suoi ma sono affari di tutti perché dentro questa verità ci sono dei legami ci sono delle connessioni è una rete la rivelazione capite se tu su una rete sgarri una cosa sgarrata quella cosa la rete si strappa e casca tutto casca capite non ci sono come dire dogmi di serie A e dogmi di serie B perché anche una cosa che sembra apparentemente periferica vabbè il dogma della tantissima trinità certamente è più grande del dogma dell'assunzione in cielo sì assolutamente parlando però ricordiamo anche che tre anni prima che Pio XII scrivesse questa bella bolla e qualcuno come dire ha azzardato diciamo così un accostamento come dire quantomeno di ulteriore spinta la Madonna apparve a le porte di Roma l'apparizione è stata riconosciuta dalla Chiesa con l'autorizzazione è una sorta di approvazione implicita con un luogo di culto dove alla Vergine della Liberazione di fronte alla Basilica delle Tre Fontane di fronte al luogo del Martirio di San Paolo lì la Madonna tra le altre cose disse io sono con lei che sono nella Santissima Trinità una frase cioè una frase io sono con lei che sono nella Santissima Trinità cioè è evidente che c'è un abisso tra dire io sono con lei che sono nella Santissima Trinità e io sono colui che sono che disse l'Altissima c'è un abisso però vuol dire che questa frase vuol dire che la Madonna certamente non fa parte della Santissima Trinità non diciamo che stupiraggine che ha invitato qualcuno non fa parte e la Santissima Trinità esiste tranquillamente senza la Madonna d'accordo non ne ha bisogno in nessun modo alcuno e la Madonna non si offende di queste cose che sto dicendo ma le sottoscrive ma per un atto volontario della Santissima Trinità che ha pensato tutta una serie di cose le ha volute la Madonna è stata tratta nell'orbita della vita Trinitaria per cui non è un optional non perché sia necessaria o essenziale ma perché Dio l'ha voluta trarre e credo che qualcuno si può mettere a discutere con il Padre Eterno a dire no perché tra l'altro la Madonna cioè non possiamo fare possiamo prenderne atto e sempre nella stessa apparizione disse queste parole il mio corpo non poteva marcire e non marci attenzione non ha detto non doveva marcire quindi non è come dire un cioè sarebbe marcito però il Signore gli ha fatto il premio di conformarlo al suo e non l'ha fatto marcire no no il mio corpo non poteva marcire perché non poteva marcire ce l'ha detto San Giovanni da Mascello perché non c'aveva in sé il principio della corruzione cioè la perdita della virginità oh ti ho detto così qui eh io sto commentando quindi capite com'è molto importante adesso passiamo ad un altro punto abbiamo ancora un po' di tempo credo di sì sì abbastanza che è l'insegnamento dei teologi allora leggo qui dobbiamo certamente un pochino prima leggere e poi commentare tre teologi scolastici tenete presente che nel 1950 questo dobbiamo dirlo per fino alla riforma diciamo anche degli studi del concilio Vaticano II la teologia scolastica era proprio la rossatura portante dell'itinerario teologico degli studenti seminaristi e tutti anche adesso nell'ottata antotius del concilio Vaticano II il magistero della chiesa raccomanda che negli studi si è seguito sempre come maestro illuminante San Tommaso d'Aquino che rimane un faro dentro la teologia cattolica tuttavia è stato ripreso un pochino il metodo teologico che si vede anche nei documenti del magistero e nei corsi che si fanno nell'università che prevede sempre una presentazione degli argomenti ad ampio raggio scrittura tradizione magistero teologi con una particolare attenzione ai pareti di San Tommaso d'Aquino e poi elaborazione sistematica dei dati che si studiano di questo teniamolo presente tra teologi scolastici non mancarono di quelli che volendo penetrare più addentro nelle verità rivelate e mostrare l'accordo tra la ragione teologica e la fede cattolica fecero rilevare che questo privilegio dell'assunzione di Maria Vergine concorda mirabilmente con le verità che ci sono insegnate dalla Sacra Strittura quindi attenzione cioè questi teologi avevano la preoccupazione di dire ma vedete questa assunzione la possiamo come dire ritenere conforme concorde alle verità fondamentali insegnate dalla Sacra Strittura quindi dalla liberazione scritta pubblica dell'Altissimo allora partendo da questo presupposto proseguo la lettura rappresentarono per illustrare questo privilegio mariano diverse ragioni contenute quasi in germe in questo che Gesù ha voluto l'assunzione di Maria al cielo per la sua pietà filiale verso di lei ritenevano quindi che la forza di tali argomenti riposa sulla dignità incomparabile della maternità divina e su tutte quelle doti che ne conseguono la sua insigne santità superiore a quella di tutti gli uomini di tutti gli angeli l'intima unione di Maria col suo figlio e quell'amore sommo che il figlio portava alla sua degnissima madre frequentemente quindi questo è stato un altro filone aperto nel medioevo da teologi scolastici cioè nel medioevo questo anche un pochino a partire dagli input già impressi da San Bernardo da da Chiaravalle che è un po' anteriore diciamo all'epoca della grande scolastica leggermente però è di poco tempo e tutto converge attraverso la grande considerazione cioè la focalizzazione dell'attenzione sul dono della maternità divina da cui si comprendono tutti gli altri cosiddetti privilegi della Madonna dall'immacolata concezione all'assunzione quindi una donna chiamata ad essere la madre di Dio oltre che avere una dignità incomparabile doveva avere necessariamente una santità superiore a tutti gli uomini e avere unione col figlio intima assolutamente unica e ripetibile non solo ma nei confronti di questa creatura il figlio Gesù non poteva non portare un amore del tutto privilegiato e particolare questo è un altro campo di attenzione frequentemente poi riprendo la lettura si incontrano teologi e sacri oratori che invece sulle orme dei santi padri per illustrare la loro fede nell'assunzione si servono con una certa libertà di fatti e detti della scrittura sacra così per citare soltanto alcuni testi verrà più usati vi sono quelli che riportano le parole del salmista vieni o signore nel tuo riposo tu e l'arca della tua santificazione e vedono nell'arca dell'alleanza fatta di legno incorruttibile e posta nel tempio del signore quasi un'immagine del corpo purissimo di Maria Vergine preservato da ogni corruzione del sepolcro ed elevato a tanta gloria del cielo allo stesso scopo descrivono la regina che entra trionfalmente nella regia celeste e si asside alla destra del divino redentore qui c'è una situazione del salmo 44 alla tua destra la regina Enori di Ofir nonché la sposa del cantico dei cantici che sale dal deserto con una colonna di fumo dagli aromi di mirra e di incenso per essere incoronata tutte queste vengono proposte come figure di quella regina sposa celeste che insieme col divino sposo innalza tra la legge dei cieli questo procedimento è un procedimento bellissimo si basa sulla lettura spirituale cosiddetta in senso ampio della saga scrittura che ha avuto non voglio diventare troppo tecnico insomma io ho approfondito queste cose proprio nella mia a suo tempo tesi dottorale due varianti la lettura tipologica e la lettura allegorica queste sono letture che facilmente passano dal tipologico all'allegorico cioè partendo da qualche elemento di analogicità d'accordo per esempio l'incorruttibilità del legno dell'arca che portava la presenza del signore perché l'arca dell'alleanza sappiamo portava la manna portava la verga fiorita di Taronna portava le tavole della legge fino a quando non è stata saccheggiata e poi andata perduta quindi colei che ha portato nel grembo lo stesso signore della vita era incorruttibile molto più del legno dell'arca dell'alleanza e quindi il suo corpo non poteva corrompersi questo filone della lettura spirituale della sacra pagina certamente noi adesso viviamo nel ventunesimo secolo nel secolo scorso è stata presentata quella che si chiama la lettura perdonatemi questo termine però scientifica della sacra pagina quindi che tiene conto anche di una serie di apporti storici filologici eccetera le guerre che ci hanno fatto a contrapporre l'una dall'altro io penso sempre che dentro un orizzonte cattolico e questa poi è la posizione dominante che si è venuta a crearsi nella chiesa non bisogna fare battaglie ideologiche cioè crociare o no il metodo storico critico e queste sono tutte quante fantasie non sono fantasie queste qui d'accordo non sono fantasie perché nella bibbia ci sono anche tantissimi misteri cioè il modo con cui dio si rivela è proprio a volte ammantato quindi richiede un'operazione spirituale non tanto umana è necessaria anche quella in certi contesti ma proprio spirituale cioè non fa niente sapere chi ha scritto il cantico dei cantici e qual era il contesto come dire concreto sulla base del quale l'autore sacro scrive questa cosa d'accordo serve anche questo però cioè alcuni passaggi è evidente che hanno bisogno di una lettura spirituale cioè fatta nello spirito santo d'accordo e lettura spirituale che a volte diventa anche mistica d'accordo c'è anche questo quindi cioè la bellezza del patrimonio della chiesa ecco io penso che tutti noi tutti noi uomini di chiesa uomini e donne uomini di chiesa in senso stretto cioè membri della gerarchia ma anche comuni fedeli io penso che dobbiamo imparare ad avere degli orizzonti dilatati d'accordo quindi a non pensare che siccome una cosa a me convince in modo particolare sia l'unica da imporre a tutto e a tutti questo processo diciamo così di vera comunione anche ecclesiale perché la comunione si costruisce dall'apporto di varie fonti cioè la ricchezza dell'interpretazione patristica della saga scrittura sia essa tipologica allegorica o a volte mistica non può essere messa nel dimenticatoio perché noi siamo diventati degli intelligentoni che sappiamo fare la filologia sappiamo vedere esattamente tutti i contesti chi ha scritto una cosa che non l'ha scritta conosciamo i vari generi letterali se è una cosa è poesia se è una cosa è racconto storico cioè non per questo deve essere mal vista e stromessa a priori se no lasciamo perdere l'analisi razionale e fidiamoci e guardiamo soltanto l'allegorismo no componiamo e accogliamo senza che nessuno ecco che lo spirito santo illumina sempre parzialmente i singoli perché tutti possano portare il proprio apporto dentro l'intero mi avviso questo processo comunionale deve essere molto molto elaborato deve essere elaborato anche molto molto tra noi imparando l'arte dell'ascolto attento quindi del non dire subito a priori ah fermo ti aspettate cinque minuti ecco quindi abbiamo visto maternità divina poi lettura allegorica della sacra scrittura passi della sacra scrittura che interpretati in un certo senso consentono di arrivare spiritualmente al fatto dell'assunzione ancora i dottori scolastici proseguono ad ombrata l'assunzione della vergine maria madre di dio non solo in varie figure dell'antico testamento ma anche in quella donna vestita di sole che l'apostolo san giovanni contemporaneo di patmos lo conosciamo tutti apocalisse 12 così pure fra i detti del nuovo testamento considerarono con particolare interesse le parole ave o piena di grazia il signore è con te l'arcangelo gabriele benedetta tu fra le donne santa elisabetta poiché vedevano nel ministero dell'assunzione un complemento della pienezza di grazia elargita alla beatissima vergine e una benedizione singolare in opposizione alla maledizione di eva perciò sul principio della teologia scolastica il pio amedeo vescovo di losanna afferma che la carne di maria vergine rimase incorrotta spiega non si può credere infatti che il suo corpo vide la corruzione perché realmente fu riunito alla sua anima insieme con essa fu circonfuso di altissima gloria nella corte celeste era infatti piena di grazia e benedetta fra le donne lei sola meritò di concepire Dio vero da Dio vero che partori vergine vergine allattò stringendola al seno e dal quale prestò in tutti i suoi santi servizi e domaggi quest'autore vedete che presuppone la separazione dell'anima dal corpo realmente fu riunito alla sua anima ma vedete ancora l'accento è posta sulla impossibilità della corruzione e ancora in riferimento alla verginità meritò di concepire Dio vero da Dio vero che partori vergine vergine allattò eccetera eccetera poi tra i sacri scrittori terminiamo la parte dei teologi scolastici poi si apre il capitolo dei grandissimi Sant'Alberto Magno San Tommaso e San Buonaventura che vedremo se possiamo introdurlo o lasciarlo la prossima volta tra i sacri scrittori poi che in questo tempo servendosi di testi scritturistici o di similitudini e tecnologie illustrarono e confermarono la mia sentenza dell'assunzione occupa un posto speciale il dottore evangelico Sant'Antonio da Padova vedete che Sant'Antonio da Padova è contemporaneo di San Francesco è morto quattro anni dopo rispetto a San Francesco il 1231 San Francesco è morto il 1227 o 26 se non ricordo male nella festa dell'assunzione commentando le parole di Isaia glorificherò il luogo dove posano i miei piedi affermò con sicurezza che il divino redentore ha glorificato in modo eccelso la sua madre direttissima dalla quale aveva preso umana carne con ciò si ha chiaramente dice che la beata vergine è stata assunta col corpo in cui fu il luogo dei piedi del Signore vedete anche questa è un'altra interpretazione tipicamente medievale allegorica perciò scrive il salmista vieni o Signore nel luogo del tuo riposo tu e l'arca della tua santificazione come Gesù Cristo dice il Santo risorse dalla sconfitta morte e salì alla testa del Padre Suo così risorse anche dall'arca della sua santificazione poiché in questo giorno la Vergine Madre fu assunta al Talamo Celeste penso che facciamo in tempo a dare un voletto di Gabbiano anche sui pensieri di Sant'Alberto Magno di Sant'Ommaso e a quello che pensava San Bonaventura da Bagno Reggio i grandi tra i più grandi pensatori esimi ecco del secolo d'oro insomma della chiesa che è il XIII secolo quando nel Medioevole la teologia scolastica raggiunse il suo massimo splendore Sant'Alberto Magno dopo aver raccolti per provare questa realtà vari argomenti fondati da una sacra scrittura la tradizione la liturgia e la ragione teologica conclude da queste ragioni e autorità e da molte altre è chiaro che la Beatissima Madre di Dio è stata assunta in corpo ed anima al di sopra dei cori degli angeli e ciò crediamo assolutamente vero guardate che Sant'Alberto Magno nei suoi tempi era un'autorità assolutamente indiscussa ed è stato il maestro di Sant'Omaso d'Aquino quando prendevano in giro Sant'Omaso d'Aquino che lo chiamavano il bue muto a causa della sua discreta stazza fisica e del suo rigoroso silenzio famosa la frase di Sant'Alberto Magno si si prendetelo pure in giro ma quando questo bue comincerà a mugire lo sentiranno in tutto il mondo insomma no e così è stato in un discorso tenuto il giorno dell'Annunciazione di Maria sempre Sant'Alberto Magno spiegando queste parole del saluto dell'Angelo Aveo Piana di Grazie il Dottor Universale così viene chiamato Dottor Universalis paragono la Santissima Vergine con Eva e dice spessamente che fu immune dalla quadruplice maledizione alla quale Eva fu soggetta sapete i dolori del parto e la morte la sofferenza quindi tutte le maledizioni conseguenti alla colpa d'origine e la soggezione diciamo così verso di tesare al suo istinto ma ti dominerà quindi il disordine nei rapporti con il maschio tutte quante le cose conseguenti alla colpa d'origine il Dottor Angelico seguendo le vestigie del suo insegno maestro beh che non abbia mai trattato espressamente la questione tuttavia ogni volta che occasionalmente ne parla ritiene costantemente con la Chiesa Cattolica che insieme all'anima è stato assunto al cielo anche il corpo di Maria dello stesso parere è fra molti altri il Dottore Serafico che dice il Dottore Universale il Dottore Angelico il Dottore Serafico guardate quanto è bello io non so chi ascolta queste cose io quando rientro in questi in questi documenti insomma che a suo tempo ho studiato cioè ci si sente proprio bene perché si vede come la Chiesa cammina in braccio per certi aspetti a questi grandi diciamo così che sono stati illuminati dallo Spirito Santo e che sono stati dei fari e che sono sempre dei grandi punti di riferimento che ci fanno vivere sicuri dentro questa grande famiglia che è la Chiesa di Gesù dello stesso parere fra molti altri il Dottore Serafico il quale ritiene assolutamente certo che come Dio preservò Maria Santissima dalla violazione del pudore e dell'integrità virginale nella concezione e nel parto così non ha permesso che il suo corpo si disfacesse in putredine e cenere attenzione putredine e cenere attenzione qui quindi pudore per il concepimento virginale quindi per il concepimento virginale vuol dire per il concepimento non carnale pudore legato al concepimento virginale legato all'assenza di putredine attenzione e invece integrità virginale parto virginale cenere perché i dolori del parto fanno parte della quadruplice maledizione così come tu sei polvere e in polvere ritornerai cioè notiamo queste bellissime proprio stupende sfumature guardate che questi grandi pensatori questi grandi teologi che poi erano grandi santi erano uomini cioè questi facevano la teologia davanti al santissimo sacramento in ginocchio capite non stavano mettendosi a a studiare a rovellarsi cioè questi quando usano le parole hanno veramente molto imparato da colui che è la parola a usarle veramente bene interpretando poi applicando in senso accomodatizio la beata vergine queste parole della sagra scrittura vedete anche qui prima abbiamo visto tornare il salmo dell'arca della santificazione e qui ritorna il cantico dei cantici chi è costei che sale dal deserto ricorma di delizia appoggiata al suo diletto così ragiona e di qui può constatare che è ibi nella città celeste corporalmente poiché infatti l'abitudine non sarebbe piena se non vi fosse personalmente e poiché la persona attenzione non è l'anima ma il composto è chiaro che vi è secondo il composto cioè il corpo e l'anima altrimenti non avrebbe una piena fruizione questo vale per quelli che dicono il medioevo erano spiritualisti pensavano solo alle anime guardate cosa scrive San Bonaventura cioè la persona umana non è la sua anima ma è il composto di anime e di corpo questo è un punto su cui molto si insiste oggi d'accordo per evitare di cadere nello spiritualismo cosiddetto ma questo noi saremo beati se andiamo in paradiso quando siamo morti soltanto con l'anima ma la risurrezione della carne che è molto connesso con questo dogma come vedremo non è una cosa per un optional ma manco per niente perché io che debba lasciare questo mio corpo cioè lasciarlo per come stare ridotto adesso sono contento ma il mio corpo non dovrebbe stare ridotto adesso come stare ridotto adesso vivere tutte quante le miserie che vive nella vita terrena non dovrebbe guardate che Gesù e Maria erano bellissimi i loro corpi erano perfettissimi nessuno dubbi non è che uno vuole fare senza nessun dubbio perché Dio non fa le cose brutte Dio fa le cose bellissime un corpo che si corrompe un corpo che che ne so gli avvengono le rughe gli avvengono i capelli bianchi perde tutti i capelli eccetera eccetera non è mica cioè questi sono tutti quanti i simboli della nostra decadenza sono io quando vedo i capelli che continuano sempre sempre dimmi ne faccio una bella risata dico ecco vedi ringrazio la volontà umana ogni capelli in meno è un'altra volontà umana insomma lo dico scherzando ma non c'è tanto da scherzare capite quindi noi nella risurrezione della carne avremo la pienezza della gloria quando questo corpo mortale che qui ha subito tante miserie e tante mortificazioni risorgerà glorioso e immortale ci dobbiamo pensare già da adesso accostandosi all'assunzione capite che significa una vita eterna con un'anima glorificata e con un corpo beatificato insomma e che tutto questo ce lo stiamo scrivendo qui in base a come campiamo la nostra giornata terrena che è una giornata certamente segnata da tante tribolazioni ma qui ci andiamo a scrivere il libro della vita eterna figlioli miei cari quindi insomma coraggio e al lavoro bene ci siamo fatti questa bella respirata ecco di un clima un po' diverso dal nostro questi approcci veramente profondi di questi grandi uomini di Dio veramente grandi uomini di Dio che ogni tanto dobbiamo prendere un po' di sane boccate d'aria ecco ed anche consolarci con la loro opera che hanno compiuto nella chiesa e che grazie a Ressa e all'apporto di ciascuno di questa ecco pluriformità di apporti si è potuto poi pervenire alla definizione totale quindi per sempre e irreformabile di questo dogma la prossima volta continueremo arrivando anche alla solenne definizione e a rivedere anche un pochino il tutto appuntamento alla prossima puntata per chi lo desidera Ave Maria Grazie a tutti